Benvenuti a pranzo con Guay 2 sul server Cucina lo chef sinergo conosciuto in tutto il mondo Oggi facciamo un piatto tradizionale della cucina francese e indiana Cioè la pasta, pomodoro e basilico Sì, un piatto complicato ma allo stesso tempo semplice Mentre mangiamo facciamo questo video Visto che vi piace vederci mangiare, quanto pare Mamma mia mia idea L'esplosione subatomica Guarda, guarda, guarda Pacific Crimson Comunque dovrei uscire il nostro fucklog primo o poi Non so se è primo dopo questo video Sì, si tratta di un video in cui rispondiamo ad alcune vostre domande e curiosità E ovviamente, no, non viviamo insieme Io sono sposato, mare e fidanzato Quindi siamo lesbiche, ecco Non siamo lesbici Non siamo lesbici perché Perché ci piace la pocchiacca Oggi c'è andata di lusso che stiamo anche cucinando Di solito un panino al volo Sì, o una pizza al forno O il tramezzino con le patatine Però, diciamo, oggi c'è andata bene Oggi stiamo cucinando tutto a posto, tutto tranquillo Ma che bel sughetto mediterraneo che stiamo facendo Hai visto? Sei pure capace a fare il sughetto Quei pomodori acquistati, vediamo una marca Di bella I pomodori di bella, ma santo Dio C'è le botte dappertutto C'è picchiato gli zombie Questa è una pentola vissuta È una pentola che ho utilizzato come rullante della batteria Per alcuni anni Molti ci hanno chiesto di fare serie su Minecraft Molti hanno detto Ma perché non continuate a fare quello che state facendo Invece di cambiare continuamente video? Ragazzi, noi abbiamo un problema più grande Noi mangiamo i radiatori Della Molisana, ragazzi Che è un'azienda, appunto, molisana Che fa un'ottima pasta Ma non esiste L'hanno creata soltanto per subappaltare lavori alla mafia Facciamo vedere il nome Allora, veramente, questa è un'ottima pasta Ma non ci sentiamo di dire che i radiatori Siano una pasta normale Da mangiare Stanno bollendo in pentola Cane? Cane? Eccolo qua Ehi Fai vedere, fai un sorriso Fai un sorriso Questa è la mascotte Quei due sul serio Voi potete vedere Ha il naso grosso Portami qualcosa Dai, prendimi qualcosa Bello quel pupazzo Puzza quel pupazzo Hai buon appetito Buon appetito Eh, potete apprezzare la Il colore di questo sugo La bellezza di Buona ciuga Di bella Perché io non ci accontenta Abbiamo primo Secondo E terzo Queste sono arance Biologiche Che vuol dire che sono state clonate Da una pecora Andalusa Biologica Biologica Ah, è figo Piene fame Io lo so che è difficile Probabilmente Però Questo È un fotomontaggio Fatto veramente col culo Ma veramente tanto Prendete quest'acqua Solo per questo fotomontaggio Qua dietro C'è la bambina Sospesa nel vuoto Il demonio Ha preso possesso Del suo corpo Si sta innalzando In mezzo ai genitori Il sugo L'ho fatto io Che sono modestamente Uno chef E' vero E poi guarda che sugo E' pure leggero Cioè non è che il piatto E' unito Io sono specializzato Sulle cose asiatiche Di che cosa è con la soia E poi ti sei cagato Tu te lo passi Insomma mi devo mangiare Stata fritta Lo so è un sacrificio Però lo devi fare Visto che l'hai lasciata a metà E tu te la sei mangiata volando Praticamente Dio ha inventato l'olio E poi ha inventato il fuoco Ha detto dovete fare l'amore Create il fritto C'è gente che Che continua a contestare I nostri video Con le configurazioni Perché secondo loro Quella scheda va meglio Perché secondo loro Quel processore va meglio Io mi chiedo Se una persona Che ha studiato queste cose Che ha lavorato nel settore Per tanti anni Ne sa meno di voi Voi probabilmente Siete ingegneri Della NASA O qualcosa del genere A questo punto Mi chiedo Come facciate A sviluppare Un programma spaziale Così interessante Avendo così tanto tempo Per rompere il cazzo Su YouTube Perché le due cose Non sono compatibili Comunque ragazzi Il problema è questo Togliamo i commenti Fuorvianti Perché non vogliamo Che voi Non conoscendo bene noi Non conoscendo loro Vi facciate confusione Non sappiate a chi dare retta Ora Siccome noi ci mettiamo La faccia E loro no Ci mettono solo Un mucchio di stronzate E scritte Fidatevi di chi ci mette La faccia Perché queste cose Le sappiamo Facci una ripresa Insieme Uniti In un abbraccio Interraziale Uomo-cane Chi lo lì Guardala 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 Dentro Chi è? Eh? Chi è? Senti come suona Tipo bongo